Il transito ordinario 7 allontanarsi dalla... Grazie a tutti. 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 Yeah. 50 anni tramite folie. 50 anni tramite folie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Vi facciano un po' di più sguardo. E' anche di buon gusto. Grazie. 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 Antiché. Bele che antiché. Fittatrici. Un diuso fittatrici. Un diuso fittatrici. Grazie. E' il giardino. Sto a distrugnarti. Grazie. E' un po' di nette molto educativizzate. E' un po' di nette molto. Grazie. 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 C'è il fritto che il pane è diverso. No, no, andiamo a lavorare, c'è un modo che mi dà la sfida al giocci, non c'è un problema, ma non fa freddo così. Ma... Roberto? La porta del cesto si è vero. Perché... perché voi... Il resto è qui. Ma anche qui... Lui è più lungo. Bu... Ma... Nel mio nome, è più lungo. Bu... ... Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.